Ohaaaa cri 아니�hm ooooooooooo pi DC n000 il posto più strano dove hai scopato bro in macchina in riva al fiume fratello aaaaaa eeeee e' il cazzo più piccolo che hai visto in�로 tua i cazzo più piccolo c'è un teenager pueno! piccolo paa senza piccolo oooooooo basta 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 ah che youtuber non è youport bella a tutti ragazzi io sono MC fucking dagras e vi do il benvenuto a questo nuovo fucking video e sono qua in compagnia con chi nega cacole yanno lame is fa sempre schifo comunque sono i sabato del gocci del sito il mio video in questo mondo vlogger numero uno d'italia già lo sapete MC dagras ah no? non si può? dai fai l'intro non hai rotto cazzo questa sera ragazzi siamo al fidel party già lo sapete festa e piscina c'è già lo sapete cosa ci aspetta eeeh c'è king king dilute dilute eeeh 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 capite capite c'è già lo sapete il fidel party oggi sarà lit domande oh no smette ma che cazzo fai basta ma hai avete rotto il cazzo avete rotto il cazzo porca putta ok fuori dal cazzo faccio l'intro ci sarà da fare domande scomode alle showy e anche ai ragazzi ovviamente faremo molti giochi tipo bacio schiaffo smash or pass domande scomode vediamo un po' c'è vediamo la roba com'è sarà stasera c'è ci sarà solo da divertirti andiamo crew oh andiamo ho detto cazzo eeeh eeeh come sta andando questo fidel party benissimo è una bomba benissimo allora madalena sono proprio fatti un po' di domande scomode ok 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 hai già fatto sesso sicuramente sii ok se io ti chiedo di farmi vedere dimostrarmi un po' il cazzo più piccolo che hai visto in vita tua come sarebbe più piccolo questo? beh è nella media quello è nella media il più grande il più grande? eeeh stai bene stai bene eh? eh si si assolutamente ma tu sputi o ingogli? sputo perchè? se me lo chiedi però stai è meglio rimanere puliti dentro ok è giusto è giusto è giusto l'ultima volta che hai scopato invece? eh qualche mese fa why the fuck you lying why you always lying qualche mese fa? eh bisogna rimediare un po' pensi che a final party riescerai un po' forse a trovare il futuro magari non questa sera chissà chissà magari si ok ok adesso visto che ti voglio aiutare ti porterò un ragazzo che avrà gli occhi bendati gli occhi chiusi e tu dovrai decidere se dargli un bacio o uno schiaffo va bene? eccolo qua ci sta arrivando ooooh puoi girarti? eccolo qua siamo qui con? Tobia ah come? Tobia con Tobia lei si chiama Maddalena ok? quanto gli dai a Maddalena da 1 a 10? da 1 a 10? 8 dai ti da un 8 tu invece a Tobia quanto gli dai? 8 anche lei ti da un 8 fra quindi ci siamo ci siamo siamo qui per un bacio schiaffo ok? quindi tu dovrai chiudere gli occhi ok e lei dovrà decidere se darti un bacio o uno schiaffo ok ci sei? sei pronta per la decisione? sei decisa? ok chiudi gli occhi attaccate sei lui lui non c'entra niente bene ragazzi eccoci qua al nostro gioco al nostro show siamo qua con Francesca e Jacopo quanti ne hai? 25 27 ok dicono che sono amici siete amici confermate? confermate o amici con cioè con qualcosa in più conferma amici vabbè oggi ci penso io sono cupido mi chiamano black cupido partiamo con un po' di domande scomode allora l'ultima volta che l'hai fatto 1,2,3,4,1 no non rispondo dai cioè un giorno fa è privacy è probabile è probabile l'ultima volta che l'hai fatto te invece? febbraio febbraio cioè io non ci credo però va bene dai qui cappano un po' il cazzo più piccolo che tu abbia mai visto fammi le dimensioni con le mani come faccio? io sono curioso Luga G.S.T.F.G. Luca C.S.T.F.G. Luca e fai le dimensioni di Luca vai fai le dimensioni con le mani fallo qual è? facci vedere lui è un hater è un hater ok l'ultima domanda scomoda sputi o ingui? eh? sputi o ingui? dipende 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 da chi dici? dipende esatto l'ultima volta è sputato o ingoiato? sputato ti faceva così schifo l'ultimo gioco della serata è chiamato bacio o schiaffo che voto ne dai da 1 a 10? 9 9 però è stupido ha detto 9 però è stupido ok tu invece da 1 a 10? 8 8 però è stronza 8 però è stronza si è offesa si è offesa alza 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 un po' alza un po' alza un po' 7 meglio da buttare un'acqua damn va bene allora loro dicono è una merda oh calma la risa dopo la risa dopo cioè loro dicono che sono amici però lo testeremo adesso adesso lui chiuderà gli occhi chiudi gli occhi tu dovrai decidere se dargli un bacio o uno schiaffo se fargli fare la figura di merda su internet no 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 non si sa mai oppure dargli un bacio anche anche sulla guancia o sulla bocca quello che vuoi a stampa non vuoi dire un cazzo ooooooooo 6 noooo che pato cosi soldato sarà per la prossima dai sarà per la prossima intervista Senta la prossima intervista, la prossima volta dai te la sbarla a lei Bene ragazzi sono Key Neg con? Giulia Ehi Savo questa scena mi sembra, mi ricorda l'inizio di un grandissimo video Ah porna 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 Ok adesso ti farò delle domande stra semplici Ok ok la prima volta che l'hai fatto proprio hard 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 16 anni più o meno 16 anni? Ci sono Era minorane Mck lntr o minorenne 16 anni io ti chiedo di farmi vedere il cazzo più piccolo che hai visto in vita tua C'è un chieder bueno anche forse è più piccolo Il posto più strano dove è scopato Nella vasca rabagno Non è molto strano però Tu sei single vero? Si single Così ci potrebbe essere possibilità di rimediare qualcosa Si potrebbe fare Ti si prova Adesso ti porteremo un ragazzo a caso ok? Ok E tu dovrai decidere Ti tirarei uno schiaffo Pau Oppure un bacio Ok Però tu dovrai girare perché non lo devi vedere Ah io lo devo andare Devi girare Bella bro come ti chiami? Alessandro Il posto più strano dove hai scopato? Nel parcheggio di un ospedale Nel parcheggio di un ospedale C'era gente che stava morendo ma lui stava scopando Ah ma tu sei impazzito bro La figa più strana che tu abbia mai visto Fai un giusto con le mani La figa più strana La più strana C'è la più strana più strana Un po' più grossa è enorme È enorme Come un palloncino Peggi un palloncino Gigante Sei gonfiata Bacca ti sei gonfiata La figa sei gonfiata Allora presentatevi Lui è Alessandro 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 Mentre lei è Giulia Giulia Eh sì Eh sì Eh sì Eh sì Guarda le cose le mie occhi Ok 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 Quanto gli dai a lei? Un bel nove e mezzo Un bel nove e mezzo Sei sei sopra sopra la sufficienza A lui invece Nove Nove Dovrai chiudere gli occhi Adesso E tu dovrai decidere Se tirargli uno schiaffo O dargli un bacio Ci sei? Ok Sei pronta? Io devo scegliere Tu Non ci arrivo Vabbè Bazzati Bazzati No Bazzati 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 Allora ragazzi Siamo qui con Adam Mito Bazzati Ma perché Adam Mito Fra? Perché Adam Già il nome è bello Il mito Perché so che sarà un mito Bazzati 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 Il posto più strano in cui l'hai fatto Bro In macchina In riva Al fiume Fratello Aspetta un attimo In macchina Arriva Il fiume In macchina Cosa è successo lì? Come lei gliel'hai dato? No no Lei ha capito subito fratello A posto Un nero che ti porta E arriva In macchina Il fiume Ovvio che capisci subito Ti capisci Il minor tempo in cui sei durato a letto Cioè il minor tempo Ah il minor tempo Secondo me è stato quando sono stato proprio stanco stanco 15 minuti bro Guarda ero stacco stacco Non stacco 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 15 minuti È tantissimo Cioè io durò 10 eh 5 Io quando Sono preso male Ti portiamo una bella Shory E faremo un bel gioco anche con lei Ci stai? Le sghere Devi decidere di dargli un bacio o uno schiaffo A te la scelta Ooooo Ma cos'era? No 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 Cos'era? Cioè è venuto qualcosa di strano Però vabbè lo accettiamo Il video era bellissimo Ma è finito di merda Lo accettiamo E' uno schiaffo carezza Ci sta E' un confronto i cani Va bene? E' lungo E' solo perchè lui l'ha fatto in macchina Alliva E' un fiume Allora ragazzi siamo sempre qua al Fidel Party E siamo tutti insieme a? Analia Analia Di dove sei Analia? Ah la la Buenos Aires Buenos Aires A caramesti A caramesti Ragazzi Siamo qui per farti un po' di domande scomode Sei pronta a rispondere? Non lo so Non lo sai Quanti anni hai per cominciare? 18 Quindi nella tua vita forse hai già fatto sesso? Si Quando è stata la prima volta in cui hai fatto sesso? Ai 13 13 Jesus is lost Cosa? Ripeti? 13 13 Ma dove dove? Dalle mie parti è così Ah a Buenos Aires l'hai fatto? No Si Come no o si? Dove l'hai fatto? No in Italia In Italia In Italia Dicevo dalle mie parti è così Ah è normale A 13 anni ci stai Appena nasci BAM 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 Ci stai A parte della vita ragazzi Allora Un'altra domanda Il cazzo più piccolo che hai visto nella tua vita? Com'è? Com'è di dimensione? Si con le mani Poi ti tengo anche il drink Non vorrei uscire Vai Fammi vedere Dai diciamo che Non voglio ucciderlo al tipo eh Ok Oh mio No dai Sono 5 centimetri Beh è un po' nella media dai Oppure è piccolissimo per te quello Secondo me c'è di meglio C'è di meglio Sei single vero? Si Siamo qui per aiutare le persone come te Le persone single Ora ti porteremo un ragazzo a caso E tu dovrai scegliere Per dargli un bacio o uno schiaffo va bene? Ti sei sicura? Sei pronta? Andiamo Dalla regia mi chiedono di farti un'ultima domanda Hai qualche preferenza della serie vai a neri vai a bianchi eccetera eccetera? E' uguale E' uguale? Ti piace qualsiasi cosa? Cioè non qualsiasi cosa però a livello di colore è qualsiasi cosa No preferenze no Preferenze no non ci sono Buono Allora fratello come stai tutto bene? Bene dai ci stiamo divertendo dai Come ti chiami bro? Cam Come? Cam Come stai Cam tutto a posto? Stiamo bene al final party comunque c'è roba no? E' una bella situazione Ok Oh Sono qua mi fatti un po' di domani scomodo Ok ci sei che? Vabbè L'ultima volta che hai fatto senso quando è stato? Tre giorni fa Tre giorni fa Tu sei attivo fra eh? Sembra Sembra attivo Sembra attivo Il tempo minore a letto fra Ma dai Sette minuti Sette minuti Sette minuti Lui ha calcolato i secondi millesimi Sette minuti esatti Ma però Sette minuti non vogliamo No No Bro stai sbagando eh Stai sbagando Oh te l'abbiamo una ragazza Del Buenos Aires Argentina Calda Caliente Sei brasiliano Oh oh ma La roba è americana È sudamericana Capito? Adesso la farò girare E vediamo Se lei ti darà un bacio o uno schiaffolo Vediamo la reazione Vediamo vediamo Allora puoi girarti Mamma mia Allora che lo che è Sai che lui è brasiliano? E quindi una roba è sudamerica Se ti hai capito È suega È suega Quanto gli dai a lei fratello? Ma un'otto e mezzo se lo merita Otto e mezzo te lo meriti Se invece quanto gli dai a lui? Otto Otto? Ci sta Ci sta Sappiamo tutti che comunque la donna Deve essere un po' di mezzo punto Capito? Sempre così È sempre così È giusto Allora però io ti farò chiudere gli occhi E lei dovrà decidere Darti uno schiaffo o darti un bacio Siamo pronti Siete pronti? Sei pronto? 3 2 1 Oh Ci sta pensando Ci sta pensando Si Lo schiaffo cazzo È timida È timida È timida È timida È timida Vediamo fuori dal palco Vediamo fuori dal palco Damn Visto che hai dato lo schiaffo al quello precedente La regia ha deciso di portartene un altro Vediamo se cambi idea o no Va bene? Ok Ok Allora portiamolo C'è bel fisico così suoi Siamo qui con Piacere Giorgio Ah Oh non vuole più parlare con me Oh parlate con di voi Allora Giorgio Le regole sono semplici Devi semplicemente chiudere gli occhi E lei dovrà decidere Darti un bacio o uno schiaccio Oh 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 Come no Oh Dai Oh Baccio 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 Becc що Eh 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 естно Dove Eh 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 La prima domanda, sputi o ingoi? Ingoio Ah, mandi tutto giù Mandi tutto giù Tutto giù Tipo l'acqua bla 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 Stai calmo, stai calmo L'ultima volta che l'hai fatto? Cioè, l'ultima volta che l'hai fatto? Due settimane fa Eeeh, con chi? Con il mio ragazzo Ah, quindi è il ragazzo Ok, ci sarà, oggi sarà da ridere Il ragazzo che lo portiamo ci sarà da ridere Ma aspetta, vai il tuo ragazzo Come è messo, è ben messo? Faccio vedere le sue misure No, non ve le faccio le misure con le mani Perché? È solo mio Ah, non vuole dare informazioni al nemico No, 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 non può E infatti, perché dopo le altre ragazze vedono E ci provano con lui, hai capito? Cioè, non vuole dare informazioni al nemico lei C'è un gioco che stiamo facendo Ti portiamo un ragazzo E tu dovrai decidere se dargli un bacio O uno schiaffo Va bene Ok Big man, oh Eh, com'è? Presentaci un attimo, presentati un attimo Bella, regà Come ti chiami? Soy Yasso Yes, sir, quante li hai? 19 Sei carico, bro? Sei caldo? Sei, allora, abbiamo un po' di domande da farti qua Stai cilio un attimo L'ultima volta che l'hai fatto, quando è stato? Due mesi fa Due mesi fa Ah, sei un ragazzo apposta, allora Sei fidanzato? No, regazzo Ok, ma c'è il minore tempo a letto in cui sei durato, quanto è stato? Cinque minuti Cinque minuti È umile È umile È umile Ok, prossima domanda Il posto più strano dove l'hai fatto? Il posto più strano in cui l'hai fatto? Cazzo, l'italiano Cambia, porca puttana Ok, vai In un bagno In un bagno In un bagno dove? In un discoteca Cioè, tu sei un porco Sei un porco Cioè, tranquillo alla fine Era tranquilla, era tranquille Ok, girati pure Abbiamo una shory per te Allora, facciamo così Che voto le dai alla shory che ti abbiamo portato qua? Che voto le dai una 10? 8 8 Lui ti dà un bello 8, tondo, tondo Tu che voto le dai da una 10? Abbiamo ancora tanto tempo 7 7 Mazzotta Eh, esatto, via l'insegna Isabo, vieni a tenerla Eh, ok, va bene Eh, eh Ti dà un bel 7 Allora, avevo un gioco da fare Si chiama bacio o schiaffo Lei adesso dovrà decidere se darti un bacio o uno schiaffo Tu dovrai chiudere gli occhi E deciderà lei Scendo i tuoi Gli occhiali, gli occhiali Allora, raga Siete pronti? Ooooooooooooooo Nooo Però che sberla di merda è Razzil Razzil però Bro Bro Ma perché hai la trovata sberla? Perché sono fidanzata Aaaaaaah No, se no, sarebbe No Aaaaaah No, no Ma va a tra paura Ma va a tra paura Cap, cap, cap Siamo qua con? Alessandra E? Eni Enis Vieni più vicino, hai paura di lei? Hai paura di lei? No, no Allora, quanti ne hai? 16 Tu? 20 Da 1 a 10 Che voto le dai A questa bella panciulla? 8 e mezzo 8 e mezzo Tu invece che voto le dai? 7 e mezzo 7 e mezzo C'è un dissing qua, eh C'è, lei ha detto 7 e mezzo Allora, va apposta Se lui fosse nel deserto, per esempio Se lui fosse nel deserto E li mordesse un serpente Venenoso E' l'unico modo Per salvarlo E' sciucchiarli Il veleno fuori dal Dai, cioè, non farmelo dire Lo faresti per salvare la vita? Si Oh, shit Ti ho fatto una bellissima domanda Poi nel video lo andrai a guardare Allora, è il posto più strano in cui l'hai fatto? Dove è stato? A casa della mia ragazza Con i genitori all'interno Porca puttana Non è stato Ah, no, ah Sei coraggioso Un bel soldato abbiamo qua, eh Enis Tu invece è il posto più strano in cui l'hai fatto? Viaggia 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 La sera o il di giorno? Anche il giorno Il giorno Mamma mia Coraggiosa anche lei Nice one Inchia-oh, due coraggiosi Siete fatti l'uno per l'altra secondo me Adesso ci chiamo un bellissimo gioco Si chiama bacio schiaffo Adesso lui chiederà gli occhi E tu dovrai decidere se limonartelo Ma proprio duro duro Ok Durissimo Duro Oppure dai una sberra Ci sei? Ok Dai Oh Aspetta aspetta Allora al mio via Si parte 3 2 1 Oh Oh shit Non me lo aspettavo C'è ma stiamo serio? C'è pensavo ci fosse un po' di feeling qua C'è si può rimediare qua Dai puoi rimediare un po' Puoi rimediare un po' C'è un bel ragazzo Ti ha solo fatto complimenti Hai detto che lo salveresti Dai Mi ho dato 8.5 Eh Mi l'ho dato 8.5 Ha detto che era perché gli ho dato 8.5 Alza il voto Alza il voto Allora 9.5 Oh ehi 9.5 Cioè è quasi 10 No 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 Vieni qui vicino E quale 10 Allora Sè Sè Basta 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 Aspetta 相aci YouTube non è Youport Bella laga Siamo giunti alla fine del video Bababaa Tutto sanno che sono nero e bello Sono caldo e ho un po' caldo Un po' caldo Vai via coglione Comunque bene ragazzi iscrivetevi al canale Lasciate un like Ma fa culo tua madre Ma raga ma King Il suo padre ha la macchina Domanda scomoda ma King ma tuo padre Sono figli di puttana Lasciate un bel like iscrivetevi Siamo quasi adercibile iscritti Vi ringrazio ragazzi E' caldo qua E' fa abbastanza caldo qua Hai detto che non vuoi farti il bagno Cosa avrei detto io L'ho mai detto io Non l'ho mai detto io No no Si Si Sì No 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 Sì